Sulle maxi bollette che stanno arrivando in questi giorni agli inquilini del progetto case, sebbene molti l'abbiano già lasciato e alcune toccano anche 9.000 euro, il coordinamento edilizia residenziale pubblica vuole vederci chiaro e sono diverse le domande che oggi, attraverso una conferenza stampa, hanno posto al Comune dell'Aquila. Ma c'è di più. Il coordinamento sta presentando un esposto alla Procura non solo per la mancata applicazione dei canoni sociali agli ex affittuari ATER trasferiti al piano case. Intanto chiediamo per i consumi la rateizzazione. in rate da 50-100 euro mese. Poi vogliamo verificare se veramente quei consumi sono effettivi, vogliamo vedere la Convenzione ANTAS e verificarli in ogni aspetto. Per quanto riguarda invece gli affitti, denunciamo la mancata applicazione della legge 96 del 96, che stranamente è stata applicata in automatico nel terremoto del 2016 a Teramo. Quelli degli ex affittuari ATER pagano il canone sociale. Qui, in forza della delibera challenge, dal 2015 si paga un canone 4-5 volte superiore a quello che è dovuto a sensi della legge. Gli inquilini però chiedono anche di avere accesso alle convenzioni fatte per la manutenzione del progetto case, con particolare riferimento a quella con l'ANTAS. Anche qui sono diverse le domande che pongono al Comune. Quali sono le convenzioni ANTAS per la gestione del progetto case? Che si intende? L'effettiva produzione di pannelli solari e il loro utilizzo funzionale ed economico. Cioè qual è il loro utilizzo? Cioè nel senso vengono fatte delle ripartizioni? Cioè ci sono degli introiti da questi pannelli solari? Dobbiamo sapere, almeno lo vogliamo capire. Come viene gestita la ripartizione dei consumi involontari degli appartamenti disabitati? Cioè noi paghiamo anche quelli? Questo non lo sappiamo ancora. L'efficienza di tutti gli impianti di tutto il periodo annuale, estivo-invernale, la differenziazione fra il periodo invernale e il periodo estivo. I disavanzi dell'ANTAS come vengono gestiti? Questa è la cosa più importante. Cioè se ci sono dei disavanzi, come vengono gestiti da parte del Comune e da parte dell'ANTAS? Cioè chi se li prende oppure chi li prende qualcuno questi disavanzi oppure vengono inseriti nell'anno successivo? Fatto sta che in città non si parla d'altro e la vicenda appare mal gestita forse sin dall'inizio. Ciò che spaventa è il dover pagare in un'unica soluzione, come ha già fatto presente l'assessore al patrimonio Vito Colonna. Sulla faccenda del progetto case c'è anche una relazione inviata dalla Commissione Garanzie e Controllo alla Corte dei Conti. Insomma una vicenda che ha poche luci e molte ombre. Sulla faccenda del progetto case c'è anche una relazione inviata in un'unica soluzione. Sulla faccenda del progetto case c'è anche una relazione inviata in un'unica soluzione.